2 euro al litro è questo il livello che ritornano a sfiorare i prezzi di benzina e gasolio in questi primi giorni dell'anno. Rintroducendo la quota piena delle accise, infatti, si registra un aumento di 30 centesimi su un litro di carburante rispetto allo scorso marzo. In Calabria, la media della benzina al self-service supera gli 1,80 euro al litro, mentre il gasolio balza 1,87 euro. I rincari maggiori al servito dove il diesel supera i 2 euro al litro e la benzina a 1,95 euro al litro. Un'altra stangata per le famiglie che accuseranno un rincaro su base annua di 300 euro a famiglia rispetto a marzo 2022. Ogni pieno, infatti, costerà 15 euro in più rispetto a dieci mesi fa. Il ripristino delle accise piene nel 2023 avrà un impatto inflattivo dello 0,4%.